. Anticipazioni uomini e donne, Gemma riceve un duro colpo, è la fine?. Uomini e donne anticipazioni, brutta notizia in arrivo per la dama Gemma Galgani. . Cancelletto Gemma Galgani Il percorso a Cancelletto uomini e donne diventa sempre più difficile e irto di nuovi colpi di scena che renderanno la sua permanenza in trasmissione ancora più complicata e difficile rispetto al previsto. . . Nel dettaglio le ultime anticipazioni su uomini e donne over rivelano che la damma torinese verrà a conoscenza di una novità che riguarda il suo grande amore Giorgio Manetti, che ovviamente non potrà renderla contenta. . Spoiler Uomini e donne, Gemma delusa da Giorgio. . Gemma, infatti, continua a non arrendersi, la dama non riesce a mettersi lanima in pace e vuole provare ancora a conquistare il cuore del suo maxuomo, che tuttavia le ha fatto capire in tutti i modi di non essere più interessato a lei e quindi di voler voltare pagina in maniera definitiva. . . . Una brutta notizia per Gemma, però, sta per abbattersi nuovamente allinterno dello studio di Uomini e donne, video. . Le anticipazioni ufficiali sul dating show di Maria De Filippi rivelano che Gemma apprenderà proprio dalla padrona di casa che ci sono delle novità che riguardano Giorgio e Anna. . . Sembrava che i due avessero accantonato lidea di costruire qualcosa di bello assieme dopo le numerose incomprensioni che sono sorte nellultimo periodo, ma a quanto pare hanno avuto un ripensamento. . . . . Prenderà affatto bene e comincerà a porre delle accuse anche nei confronti di Anna e Giorgio, al punto da far infuriare la dama che prontamente le ricorderà che lei non è la fidanzata di Giorgio e quindi non può permettersi di fare queste scenate di gelosia. Anche Tina Cipollari avrà una dura reazione nei confronti di Gemma Galgani, video, ribadendo ancora una volta che deve smetterla di farsi tutti questi film nella sua testa perché ormai Giorgio le ha fatto capire espressamente che intende voltare pagina in maniera definitiva. E così per Gemma comincerà un nuovo periodo buio, la dama ha scelto di chiudere la sua relazione con Raffaele e forse quasi sperava di poter rifare breccia nel cuore del gabbiano ma così non è stato. Le anticipazioni su uomini e donne over rivelano che Giorgio appare sempre più scostante e freddo nei suoi confronti e ormai sembra che sia finita per sempre. Ciao!